Il primo posto si beccherà a 20.000 euro. L'ente banditore di Contro acquisirà la titolarità della proposta progettuale. Al secondo e terzo invece un rimborso spese da 8.000. Il Comune di Bari bandisce un concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione del waterfront della città vecchia, nel tratto compreso tra Santa Scolastica, Molo di Sant'Antonio e Molo di San Nicola. In Porto Massimo per le opere da progettare 7.900.000 euro, fondi non ancora disponibili. Ma c'è un però. La proposta dovrà pervenire entro e non oltre il 20 febbraio. Noi riteniamo che sia una posizione pasticciata e anche un po' opaca, perché stiamo riqualificando uno dei pezzi più importanti del lungomare di Bari, più prestigiosi sicuramente perché è il pezzo che è di fronte alle mura del Borgo Antico, e sono stati affidati dei tempi per la progettazione assolutamente limitati, fino al 20 febbraio, quindi sono una trentina di giorni, e un premio per il progettista che presenterà lo studio migliore di 20.000 euro. Noi riteniamo che questo tempo limitato e questo premio così risicato non consentirà la partecipazione di grandi studi, non solo italiani ma anche internazionali. Perché solo 20.000 euro di premio per un progetto così importante? E perché così poco tempo per presentare la proposta, vista la totale assenza di termini che ne indichino l'urgenza? Questo è il punto che abbiamo sollevato in Commissione Trasparenza, tant'è che la Commissione ha ritenuto di invitare l'amministrazione a prorogare questi termini, non più il 20 febbraio ma almeno il 20 aprile. E l'assessore all'urbanistica Carla Tedesco è stata convocata in Commissione Trasparenza per fornire risposte.